Confedilizia è la Confederazione Italiana della Proprietà Edilizia. Dal 1883 difende la proprietà immobiliare. La prima associazione fra i proprietari nasce a Genova. Oggi Confedilizia è presente sul territorio nazionale con oltre 200 sedi. A Confedilizia aderiscono proprietari di casa, condomini e singoli condomini, investitori istituzionali quali società immobiliari di rilevanza nazionale, compagnie di assicurazione, banche, casse pensioni, istituti previdenziali. Confedilizia svolge un ruolo istituzionale, rappresentando gli associati nei rapporti con Parlamento, Governo, Regioni, Comuni. Confedilizia, tramite le sue associazioni territoriali, offre agli iscritti un'ampia gamma di servizi. Organizza corsi di formazione e di aggiornamento per amministratori condominali, anche del proprio condominio, sia frontali sia online. Svolge convegni su tutti i temi riguardanti la proprietà immobiliare. Offre consulenze e assistenza nelle materie che hanno attinenza con la casa, legale, condominiale, locatizia, fiscale, catastale. Calcola le imposte da pagare e verifica la convenienza della cedolare secca sugli affitti. Supporta e assiste i proprietari nella stipula e nella gestione dei contratti di locazione e di ogni altro contratto legato alla proprietà immobiliare. Gestisce la contabilità condominiale, la retribuzione dei portieri e ogni altro evento relativo all'amministrazione della proprietà. Si occupa dei problemi che sorgono nei condomini. Attraverso il CORAM, Coordinamento Registri Amministratori, cura l'aggiornamento degli amministratori condominali e affianca i condomini nella loro scelta. Firma da quasi 80 anni il contratto collettivo per i dipendenti della proprietà immobiliare. Può quindi risolvere le questioni legate ai rapporti di lavoro, per esempio con portieri e addetti alla polizia. Organizza corsi per la sicurezza sul luogo di lavoro. Pubblica, attraverso Confedilizia Edizioni e in collaborazione con l'editrice La Tribuna, manuali e volumi tecnici. Tutti gli iscritti ricevono gratuitamente il mensile Confedilizia Notizie, strumento indispensabile per i proprietari di casa. Stipula convenzioni con banche, società assicuratrici, società di manutenzione. Fornisce assistenza contro le pretese di contributi consortili per immobili che non godono di benefici dalla bonifica. Attraverso i coordinamenti legali, condominiale, tributario, urbanistico e tecnico, aiuta a scegliere il professionista più adatto a risolvere i problemi di tutti i giorni. Confedilizia, con i proprietari di casa, con i condomini, con gli investitori istituzionali, con voi, ovunque. Confedilizia, con i proprietari di casa, con i proprietari di casa, con i proprietari di casa. Confedilizia, con i proprietari di casa, con i proprietari di casa, con i proprietari di casa.